Il 15 dicembre a Palazzo Lascaris la consulta femminile regionale ha incontrato le presidenti delle associazioni femminili del Piemonte per la presentazione delle iniziative 2012. Saranno allestite due grandi mostre sulla storia del movimento femminile ed un convegno sull'imprenditoria realizzata dalle donne. Ascoltiamo la dichiarazione della presidente della consulta Maria Agnese Vercellotti. La consulta femminile regionale incontra questa sera le presidenti delle associazioni e i loro rappresentanti insieme alla consulta per esporre quanto fatto durante questo anno che si va concludendo e soprattutto per raccogliere proposte per l'attività futura che si aggiungerà a quella già in programma. E' quindi un incontro che rinsalda i legami tra la consulta e le associazioni femminili presenti sul territorio della nostra regione.